Eno gastronomia e sapori toscani come elemento di diffusione della cultura è questo uno degli obiettivi della Toscana in Bocca l'appuntamento sulle eccellenze culinarie locali che si terrà a Pistoia dal 21 al 25 aprile prossimi un evento che vedrà la partecipazione dei ristoratori locali che porteranno in degustazione circa 80 piatti tipici La quarta edizione di Toscana in Bocca coincide con il ruolo assunto da Pistoia, capitale della cultura italiana del 2017 ed è l'occasione utile per raccontare un'altra storia, un altro pezzo delle nostre eccellenze e della Toscana e con un percorso particolare nella presenza del professor Cardini sarà sicuramente stimolante e sollecitante nel merito della questione, l'alimentazione, il cibo, la storia, la storicizzazione nella Toscana nelle tante diverse parti della Toscana del saper fare della tradizione culinaria che diventa racconto dei luoghi, racconto delle comunità Una vetrina per le imprese che rappresentano l'eccellenza enogastronomica del nostro territorio le quali fanno tanta parte della capacità di accoglienza, della qualità dell'ospitalità del nostro territorio un territorio che sta letteralmente fiorendo con la primavera si direbbe e che vede crescere con numeri inimmaginabili solo poche stagioni fa le proprie presenze turistiche in termini di arrivi, pernottamenti Pistoia conosce una stagione che non ha mai conosciuto che deriva da una notorietà che non ha mai conosciuto la quale è anche figlia di manifestazioni negli anni scorsi come la Toscana in bocca Nel corso dei cinque giorni della manifestazione che ha ottenuto anche il patrocinio del progetto regionale vetrina toscana si alterneranno talk, cooking show e appuntamenti culinari tutti eventi nei quali il gusto si fonderà ad aspetti culturali Lo scorso anno le presenze della Toscana in bocca sono state importanti con circa 40.000 visitatori, un'occasione per portare a Pistoia un turismo di qualità Quest'anno lo vogliamo vivere come l'anno della qualità 40.000 persone è un numero rilevantissimo pensiamo di riuscire a concretizzarlo anche nel 2017 ma non vivremo stress da numeri la volontà è quella di fare una bella iniziativa che rimanga nella memoria delle persone Nel corso della manifestazione anche una gara tra chef che si cimenteranno nella preparazione di piatti a base di vitellone bianco dell'appennino centrale IGP Il 22 aprile ancora un cooking show dei cuochi toscani che delizzeranno i palati dei presenti con assaggi di Amatriciana il ricavato sarà devoluto in beneficenza al comune di Cittareale